amici buonasera e ben ritrovati nel mio piccolo laboratorio credo siamo giunti al momento focale quindi ne sono circa tre settimane che sto costruendo l'opera che vedete alle mie spalle e ora è il momento di vedere il contenuto che ci andrà dentro una premessa da fare semplice semplice considerando il fatto che in queste tre settimane dal momento in cui sapevo che arrivava la macchina ho affrettato un po i tempi diciamo per terminare l'opera anche perché ve l'ho spiegato a tutti finché non era completata l'opera non potevo aprire anche la macchina mi trovavo con due situazioni molto difficili da gestire quindi la premessa è l'opera alle mie spalle la vedete completata manca solo una una piccola cosa ma è una cosa che si farà in un secondo tempo però è chiusa è vetrata e quindi dal momento in cui la macchina sarà terminata e c'è sarà terminato il montaggio da si può internare nel suo posto e quindi posso procedere anche con altri lavori anche polverosi quello che prima non potevo fare la premessa è ci sono ancora due parti di video per chi mi segue e ok anche per i nuovi entranti a conoscere il canale e magari i gruppi in cui io posto ci sono ancora altre due parti di video che io devo ancora caricare appunto per aver affrettato i tempi per finire l'opera e l'opera la vedete finita alle mie spalle quindi voi stasera fate finta di non vederla andate magari a gustarvi le altre per chi interessato naturalmente perché io non sono dio non sono qui e tutti dovete vedere cosa faccio io dico sempre per chi interessato per chi mi segue se avete la curiosità di vedere passo passo fino a questo punto ci sono ancora due video da vedere che non ho ancora caricato perché ci vuole anche un tempo tecnico tra un video e l'altro non è che posso caricare cinque video nell'arco di un giorno poi nessuno capirebbe cioè si rischia di non capire bene la cosa e la cosa diventerebbe stancante e io non voglio stancare nessuno piuttosto faccio a meno di fare un video quindi la premessa è questa fate finta di non vederlo perché adesso è finito e andate a gustarvi gli altri due andate a vedere gli altri due video che nell'arco di di questa settimana più o meno andrò a caricare ma nel frattempo cominciamo a vedere che cosa c'è nella scatola bene allora devo leggermente spostare qualcosa allora quello che è da spostare perché è difficile in sostanza fare un unboxing 33 chili e mezzo stiamo parlando di questo scatolo è difficile che io riesca a fare un unboxing con dei pezzi delicati e pesanti e uscirli dalla scatola a questa altezza allora considerando il fatto che non dobbiamo fare segatura andiamo a togliere questa macchina e la mettiamo qui che così è fuori campo questa sera non si parla di festul ma si parla di prusa e andiamo ad usufruire il supporto e pensate che pensate che nel manuale di montaggio c'è pure scritto attenzione bisogna essere sempre in due persone per spostare lo scatolo perché è molto molto pesante quindi andremo ad approfittare del supporto della mia sega banco per avere una posizione più corta anzi a maggior ragione perfetta io direi che l'inquadratura è perfetta ora andiamo ad aprire i lembi perché ragazzi l'unboxing significa che la apro davanti a voi portate pazienza a volte se vi se vi do le spalle ma non è che ho la camera che mi segue allora facciamo anche un'altra cosa per far sì che il tutto diventi comodo da vedere andiamo a creare una situazione comoda quindi se noi spostiamo questo lembo benissimo e facciamo una roba del genere adesso si comincia a ragionare allora intanto come prima cosa c'è praticamente una lettera dove c'è scritto il peso e quant'altro e all'interno naturalmente il solito discorso di congratulazioni per aver preso la macchina bim bum bam all'interno c'è una leggenda vedete questa è una leggenda in formato scala a 1 1 a 1 cosa significa che i componenti che noi andremo a visionare all'interno di questa scatola quindi intanto partiamo dal presupposto che non è un kit di montaggio è una preassemblata a differenza della mk4 sorella media e della mini sorella piccola diciamo che la differenza è quelle arrivano in kit quindi pezzo per pezzo per vite per vite tutto da assemblare mentre qui è una preassemblata perché probabilmente anche il fattore della copiosità di dimensioni e quant'altro hanno già loro preassemblato la macchina cioè ci sono due stadi per acquistare questa macchina assemblata quindi scatolo più grande arriva si toglie lo scatolo ed è già quasi pronta mentre preassemblata ne so tanto quanto voi però ipotizzo che la situazione sia una parzialità di assemblaggio da fare però ci sono determinate cose da assemblare e magari ci sono determinate cose molto simili quindi questa leggenda serve appunto in scala 1 a 1 a capire tutte le viti quindi i vari componenti, le aste, i perni ci sono viti senza fine ci sono alcune componentistiche che essendo simili per non sbagliare si può appoggiare il pezzo sopra al disegno essendo in scala 1 a 1 è impossibile sbagliare perché? perché è fondamentale calma e sangue no freddo ghiacciato non si può sbagliare l'assemblaggio è un casino poi diventa un problema quindi questa la mettiamo qui altra cosa fondamentale è mamma mia che schermo sporco io utilizzo ipad perché giustamente mi metto sul grande banco scusate un attimo che non mi sta vedendo eccolo qua e abbiamo il manuale cioè significa il manuale che io come ho già detto anche quando abbiamo fatto la scenetta di arrivo macchina con Andrea Galeazzi il responsabile appunto di Prusa Italia la premessa no cos'è che stavo dicendo la premessa il ah sì che è il manuale di installazione è a prova di idiota cioè significa che se noi seguiamo passo passo tutto quello che c'è da fare anche il sistema di unboxing che adesso io vado un po' diciamo come abitudine perché avendo già essendo questa una due la tre la quarta macchina che io vado ad assemblare diciamo che un po' tante cose vanno un po' alla cieca però da non sottovalutare quello che sto dicendo quando si è convinti e sicuri che una cosa la si sta facendo giusta meglio ricontrollare due volte perché non è un pezzo di legno che se sbaglio a tagliarlo ne rifaccio un altro qui se sbaglio un assemblaggio una vite al posto di un'altra una lunghezza rispetto ad un'altra un'asta al posto di un'altra poi mi trovo nei casini e mi trovo nei casini magari non nell'immediato finché sto assemblando ma alla fine perché poi faccio partire il tutto i test non corrispondono vai a capire tu sì è fattibile però devi partire se il montaggio è partito da zero arriva a 100 devi andare a ritroso a smontare finché trovi il punto e non è facile trovarlo a me non è mai successo però vi porto l'esempio più semplice e quindi ci sono gli step passo passo con il fotografico che si può zoomare con le spiegazioni avvertenze importanti punti cardine da rispettare e lì non si transige e ci sono anche i punti dove è fondamentale mangiare un chilo di arrivo stiamo parlando di un chilo ragazzi ogni macchina che io ho assemblato c'erano sempre le caramelle questa è proprio un'abitudine che ha prusa nei confronti dei clienti quando acquistano un prodotto cioè significa per la mini per la mk3 la prima che ho avuto per la mk4 allora le buste sono in grandezza di pari passo all'acquisto che si fa qui c'è un chilo di arrivo perché giustamente la macchina è grande nella mk4 c'era la bustina media nella mini c'era la bustina piccola è giusto anche scherzare ogni tanto quindi ecco avete capito il discorso del manuale passo passo e il chilo di arrivo è meglio che già le mettiamo via perché andremo ad aprirle seguendo il manuale ora io non vi spiegherò che cosa c'è dentro ogni sacchetto perché ogni sacchetto ha una sua leggenda un'etichetta frontale dove in base al punto in cui ci troviamo in fase di montaggio del manuale il manuale ci dice prendi quel sacchetto lì prendi quella vite lì prendi quel componente lì preparati i pezzi e poi si comincia ad assemblare corpo per corpo pezzo per pezzo finché si arriva alla composizione dell'articolo che andrà assemblato agli altri articoli quindi ogni sacchetto prendiamo la prima scatola dove all'interno c'era anche il chilo di arrivo vedete qui c'è un sacchetto e c'è un cavo questo è facile da capire qui c'è la chiavetta che in sostanza noi non andremo ad usare diciamo perché sto usando Prusa Connect che è quel sistema che praticamente da computer o da tablet si può gestire esattamente la macchina anche senza usare il display quindi tutto quanto direttamente dall'applicazione e caricare i file vedere la situazione di stamp insomma bim bum bam andate un attimo io adesso non vi sto a spiegare per filo e per segno ogni passo che dobbiamo fare perché ragazzi che devo fare perché o che dobbiamo fare per chi si accinge appunto a fare lo stesso passo che ho fatto io o simile perché se no andiamo alle calende greche con il video e io non voglio smantellare i maroni a nessuno qui vedete che c'è scritto XL LCD qui c'è il monitor qui abbiamo altre parti in plastica qui abbiamo un po' di attrezzi giustamente qui gli attrezzi non mancano però ogni macchina ha in dotazione le pinze la chiave a brugola la chiave torx quello che serve per assemblarla qui altre buste poi qui abbiamo i cavi il cavo questo lo riconosco a memoria è il cavo dell'LCD che partirà da dietro e arriva davanti alcune plastiche che faranno parte della componentistica qui c'è una miriade di ghiere ghierette blocchi staffe staffette insomma chi più ne ha più ne metta e quindi non è che sto qui a spiegarvi ogni cosa che c'è nel sacchetto e questa scatola intanto la mettiamo da parte e la lasciamo anche chiusa perché credo che non sia l'unica scatola che va tirata fuori da questo scatolone il manuale di stampa 3D la cosa fantastica che crea Prusa non lo so se lo fanno anche le altre ragazzi io adesso non voglio mettere in paragone questo brand con altri brand non ne sarei in grado perché comunque sia il brand diverso da questo che era la Ender 3 la mia prima stampante non me la ricordo tre anni fa non mi ricordo com'era l'unboxing che ho fatto però la differenza cioè la cosa gradita che io trovo è che questa è un'azienda ciecoslovacca però se io sono Veneto nel mio caso Veneto ma nel caso generico nostro italiano mi mandano all'interno il manuale in italiano e questa è una cosa fondamentale sapete che io non mastico l'inglese quindi io parlo bene l'italiano e il dialetto Veneto un chilo di filamento in questo caso è un prusamente il Galaxy Black uno tra i i PLA più amati secondo il mio punto di vista che ha creato Prusa che crea Prusa tuttora voglio dire quindi non sto parlando di un campioncino questo è un chilo di filamento sti cavoli vedendo l'entità della macchina voglio vedere se mi mandano il campioncino dei tre metri di filamento un chilo va bene ora qui abbiamo le due questo modello di macchina è la tool change cioè significa la due teste sapete tutti ormai perché le notizie adesso corrono veloci online c'è stato un grosso ritardo per questa macchina anche mettendola in paragone alla concorrenza però io ho ho valutato una cosa in questi mesi e in questo anno anno e mezzo da quando Prusa ha cominciato a parlarne e a vociferare in giro questa questa XL è in ritardo rispetto alla concorrenza nessuno lo mette in dubbio adesso io non voglio cioè bisogna spezzare una lancia anche per il mondo esterno a questo brand ci sono state aziende che sono state molto più veloci c'è niente da fare però io questo è un discorso che voglio farvi in un minuto e dovete capirlo bene io esternamente a quel che è la stampa 3D utilizzo il brand Festool perché sono un installatore di arredamenti ormai tutti lo sapete e perché mi diletto all'interno di questo piccolo laboratorio per creare per costruire per dar sfogo alla mia creatività il marchio Festool io l'ho stimato sin da subito perché sono prodotti di alta gamma sono prodotti fatti bene sono prodotti seri l'azienda l'azienda è seria e c'è un bel ecosistema tutto agglomerato assieme che funziona perfettamente perché vi dico questo perché dal momento in cui io sono entrato in Festool ho capito che gli altri brand più commerciali diciamo erano molto più veloci a buttare fuori prodotti a buttare fuori macchine ok un utensile che usciva oggi della Festool altri brand lo avevano già buttato fuori sei mesi fa un anno fa non ho trovato nessun evento chiamato questo trend in programma oggi sì nessuno ti ha chiesto qualcosa la tecnologia a volte ci taglia le gambe quindi stavo dicendo altre aziende uscivano sei mesi un anno prima però Festool faccio questa piccola parentesi di brand per farvi capire bene il discorso temporeggiava rispetto ad un altro brand perché quando usciva il prodotto non era plausibile l'idea di fare cilecca ok probabilmente e dico probabilmente perché anch'io mi sto addentrando in questo brand giustamente la sicurezza abbastanza sicurezza ce l'ho perché sono tre anni ormai che io sono entrato nel brand Prusa per quanto riguarda la stampa 3D e ho osservato che magari sicuramente è più lenta la Prusa di un'altra azienda a smerciare a sfornare un prodotto però quel prodotto lì o sono sicuri che viaggia al 100% o non si fa nulla io ho riscontrato questo sulle altre sorelle più piccole quindi cioè voglio dire prima di queste due ne avevo altre due con la vecchia tecnologia con la tecnologia lenta chiamiamola così e io non ho cioè quelle volte che ho sbagliato una stampa è perché io ho sbagliato non perché ha sbagliato la macchina adesso io non mi aspetto che anche questa essendo un'innovazione nonostante abbia una progettazione alle spalle di quasi due anni non mi aspetto che sia tutto per filo e per segno però già dal momento in cui si sono sbloccati si è sbloccata questa dogana frenante di questa macchina già sono usciti degli aggiornamenti importanti e che stanno facendo volare questa macchina bene diciamo ecco quindi ho voluto fare questo questo esempio appunto per non per denigrare altri brand perché Dio mi tolga se io sono qui a puntare il dito so uno e l'altro st'altro però così riuscite a capire il perché io ho fatto questa scelta allora torniamo a noi versione a due teste questa macchina ha la versione a cinque teste e la versione a una testa o a due teste quindi abbiamo tre possibilità diciamo che la versione a una testa è un po' come dire a sto punto ho la marca 4 la differenza la farebbe solo il piano di lavoro che qui è molto più grande però lavorare con una testa con una XL è un po' sprecato a meno che uno non faccia solo monofilamento perché deve fare stampe grandi ecco che là c'è la motivazione due teste già cominciamo un po' a divertirci sia col bicolore sia con stampe anche che abbiano dove possiamo lavorare con filamento primario e filamento di supporto diversificato che può essere un solubile che può essere un PETG come filamento primario PLA come filamento secondario di supporto il che significa che andiamo ad agevolare il distacco insomma ci sono una serie di cose che andremo poi anche nel tempo a testare a provare a vedere queste cose io le ho già studiate e mi sono già state messe davanti agli occhi queste cose che io vi ho elencato però un po' alla volta le vedremo allora due teste significa due scatole e io non avendola ancora aperta ho immaginato XL multi-tall nextruder premetto il nextruder della XL è lo stesso identico che c'è nella marca 4 stessa identica situazione solo che qui abbiamo un sistema con un suo cavo con una sua alimentazione con una sua molla di irrigidimento per tenerlo arcato e abbiamo il sistema di collegamento quindi dal nextruder alla macchina e il nextruder vero e proprio quindi stiamo parlando del sistema di stampa con completo con il suo estrusore con il sua ruota godronata all'interno adesso determinate cose tecniche ragazzi non chiedetemele perché non le conosco la sua ventola di raffreddamento il suo ugello insomma questa è una testa ok vediamo di rimetterla un attimo dentro come stava e andiamo a spostarla scusatemi se apro e poi richiudo e metto da una parte perché penso che ce ne sia ancora roba che deve uscire da questa è una testa e questa è la sorella quindi è inutile che la sto qui ad aprire eccola lì e questa è la sorella paro paro quindi abbiamo svelato le due teste e questo è il piatto allora in dotazione con la macchina c'è la versione saten la versione saten che praticamente permette di stampare sia il PLA che il PETG e anche altri filamenti ora adesso cioè non chiedetemi in questo momento quanti altri filamenti si possono stampare con il piatto ragazzi entrate nel sito e poi vi spiego anche un'altra bella cosa io volevo aprirlo senza distruggerlo scusatemi se mi sposto un attimo prendo il taglierino perché volevo mostrarvi una cosa allora facciamo proprio una cosa barbona ok quello che vi volevo mostrare questa è la dimensione del piatto la macchina arriva a stampare 36x36x36 x y z quindi un cubo 36x36x36 in alto e quello che volevo mostrarvi non andiamo diciamo a prendere proprio quello della mini prendiamo un piatto e prendiamo l'equivalente saten della marca 4 se noi ora facciamo così credo si capisca la differenza questo è un 25x21x22 di altezza e questo è un cubo 36x36x36 non mi smetterò mai di dirlo perché giustamente è una è una grande sorpresa è una grande sorpresa è una grande innovazione in questo mio piccolo laboratorio appoggiamo qui il piatto e credo che adesso cominciamo con i pezzi quelli tosti allora uno scontrino che praticamente va ad elencare tutti i test che sono stati fatti perché ogni macchina che viene costruita viene fatto un preassemblaggio e viene fatto tutta una serie di test e finché non c'è l'ok su ogni test la macchina non viene commercializzata su ogni macchina non su questa su ogni macchina ora dobbiamo capire come aprire questo qui ci sono due maniglie e presumo che questo viene fuori intero porca di quella porca e da quel che vedo stiamo parlando del subassemblies non chiedetevi che cosa significa ma credo sia il basamento il telaio infari credo potrebbe essere anche un fianco però non lo so no no il basamento perché vedo già il piatto riscaldante che meraviglia quindi qui abbiamo uno spugnotto un altro spugnotto incastrato e qui abbiamo il piatto riscaldante guardate che quadro da appendere al muro è una meraviglia questo piatto riscaldante rispetto agli altri piatti delle stampanti più piccole è formato da 16 mattonelle 16 piastre le quali le quali tutte lavorano all'unisono se serve una stampa vedete che sono tutte collegate al centro e quindi tutte lavorano all'unisono se io devo fare una stampa di dimensioni grandi cioè ogni qualvolta che la stampa va a toccare una piastra la piastra si riscalda come le altre cioè quindi la zona occupata dalla stampa si riscalda se io devo stampare una cosa piccola in questo angolo e che mi copre praticamente quattro piastre lei scalderà solo queste quattro piastre non va a scaldare tutta quanta la superficie di lavoro il che significa tempi ridotti anche per mandare in temperatura il piatto che a volte quando abbiamo magari abbiamo fretta tra una stampa e l'altra star lì a guardarla che vanno su i numerini dei gradi è una rottura di maroni io lo ammetto per primo ed è così è inutile che vi nascondiate adesso dietro al monitor è così sta lì ad aspettare e la temperatura del piatto dell'estrusore è una rottura di maroni quindi oltre al fatto di accorciare i tempi per riscaldare la zona solo la zona interessata anche un fattore di risparmio energetico perché provate a riscaldarla tutta e provate a pensare di riscaldare una due quattro o sei rispetto alle sedici e qui stiamo parlando di 4x4 16 piastrelle quindi questo è il piatto e andiamo ad appoggiarlo qui gli spugnoti intanto li mettiamo qua e poi faremo una buona raccolta differenziata e qui cominciamo a vedere il telaio cioè significa il corpo superiore eccolo qua quindi in questo caso che vediamo questa griglia siamo sul dietro della macchina queste sono le due braccia che nella parte alta poi sporgeranno per portare l'asse del sistema motorizzato che va ad agganciare le teste che le teste saranno a riposo su questa zona e questo è praticamente l'asse che va ad agganciare e a fare tutta la lavorazione quando si stampa attenzione la differenza che c'è tra questa macchina e le altre sorelle più piccole è che quelle sono cartesiane adesso il termine esatto mi è stato anche spiegato ma non lo ricordo quindi abbiamo l'estrusore che si muove in fase di stampa e a man mano che la stampa cresce l'estrusore si alza e va a terminare la stampa qui avremo l'estrusore che si muove sulla stampa ma rimane sempre sullo stesso livello perché sarà il piatto che parte a filo dell'estrusore e man mano che cresce la stampa invece di alzarsi l'estrusore cala il piatto quindi questa si chiama vedete la mia ignoranza e questo sta a indicare che per i titubanti che se ci sto riuscendo io con una cosa che magari agli occhi sembra così complessa ci può riuscire chiunque ragazzi lo sapete che in queste cose io sono uno zuccone di prima categoria allora questa si chiama Core XY a differenza della cartesiana andate a studiarlo online io intanto vi mostro i pezzi della macchina quindi anche qui spine spinette cavoli ammazzi cinghi cinghette e le barre led perché questa ha una sua illuminazione nativa sposto anche questo porca di quella porca cominciamo a riempire il banco aspettate un secondo solo ragazzi perché non è finita la storia qui devo appoggiarla senza pizzicare cavi e quant'altro ok abbiamo una parete di cartone che va a separare quel che era la struttura superiore con la struttura inferiore e questo lo si capisce perché ci sono i gommini di appoggio quindi questa è la struttura inferiore dove poi vengono applicati i fianchi e si parte a costruire la macchina questo è il basamento di appoggio e andiamo anche questo ad appoggiarlo qui strutturalmente c'è niente da dire c'è tutto un tubolare bello rigido poi vedremo ah ok e questo è vuoto è un packaging che è impressionante come del resto penso anche altri brand per carità nulla da dire però stiamo vedendo questo valutiamo questo qui mi si è spezzato il manico del cartone vedi perché Prusa dice allora mettiamo giù lo scatolotto lo pizzichiamo con i piedi e questo è l'ultimo cartone perché Prusa dice che servono due persone come si dice in Veneto che sarà un motivo ci sarà un motivo se quello in fondo è il basamento e questa è la struttura superiore questo è il piatto e quelle sono le componentistiche che cosa c'è qui dentro l'unica cosa che manca sono i fianchi allora la cosa qui diventa un po' più complessa qui abbiamo aspettate perché sto studiando anch'io ragazzi sto studiando eccolo qua ah perché la spugna è incollata sul cartone quindi si deve mettersi un po' di energia qui abbiamo perché appunto parlando di Core XY il discorso asse X asse Y l'asse Z non può essere nell'estrusore ma deve essere nei montanti per abbassare il piatto quindi l'asse Z come ho detto prima questo è uno dei due componenti dell'asse Z e lo possiamo appoggiare qua e questo è l'altro componente che farà slittare che accompagnerà tutto in barra tutto in barra rigida impressionante non so più dove mettere la roba ragazzi c'è qualcuno che vuole venire qui a prendere un po' di pezzi ha fatto la battuta qui c'è ci sono due lamine e presumo che questi due siano proprio i fianchi ok i fianchi laterali che vanno installati diciamo dal basamento inferiore quindi e che vanno a collegarsi a quel che è il telaio quelle due braccia quell'arco che abbiamo estratto poco fa questi l'unico posto è qui perché in fondo là mi sa che ci sta l'ultimo pezzo allora questo lo buttiamo via anche questo facciamo una bella differenziata e giustamente ora abbiamo è rimasto il fondo quindi la parte di schiena la parte di schiena in questo contesto mamma mia che peso aspettate perché ci sono pezzi incastrati dappertutto questo è un altro montante lo appoggiamo qua questo è un altro montante e lo appoggiamo qua speriamo che non mi cada nulla per fortuna che il banco l'ho fatto due metri per 90 e è tutto incastrato al decimo di millimetro e qui abbiamo lo schienale che in questo caso la parte dritta sarà questa dove abbiamo il sistema di alimentazione con il suo pulsante che poi noi andremo a gestire con il comando vocale appunto per avere una situazione di comando da remoto significa che anche quando io sono fuori nei cantieri sono a lavorare lancio le stampe da ore e ore se succede qualcosa posso fermare la macchina fermo restando che sta arrivando anche una novità assieme ai vari firmware di aggiornamento che stanno arrivando a mille sta arrivando anche la telecamera e quella sarà anche una gran bella cosa qui abbiamo naturalmente il collegamento a quel che è l'asse Z quindi il piatto e quindi abbiamo una rotaia che va a comandare lo spostamento e in questo contesto avendo una macchina a doppia testa a due estrusori abbiamo due trasformatori in mezzo c'è uno spazio se voi osservate perché quando si quando si porca di quella porca quando si deciderà perché lo si può fare in un secondo tempo quando lo si sente il bisogno quando quando ci sono i soldi in banca quando ci sono tante cose da tenere in considerazione che se io prendo il modello a una testa avrò un trasformatore a due teste abbiamo due trasformatori dal momento in cui io vado a prendere gli altri tre le altre tre teste da aggiungere che si possono aggiungere in qualsivoglia momento qui c'è lo spazio esatto per il fratello di questi due quindi completa cinque teste avrà tre trasformatori posteriori e questa da come si può ben capire è la parte che noi vediamo una volta che è assemblata e ha un peso notevole ora l'unico spazio che mi è rimasto è qua in fondo giustamente non serve più che alzo la voce quando mi sposto avrete notato che ho fatto anch'io un passo avanti come i grandi mecker come i grandi videomecker mi sono microfonato perché più di qualcuno continuava a dirmi Luca ti muovi spesso in laboratorio ti muovi tanto e noi che magari vediamo i video al monitor o alla tv dobbiamo continuare ad alzare abbassare il volume e allora ragazzi se Maometto non va alla montagna faremo in modo che la montagna va alla Maometto qui abbiamo altre due spugne l'ultima scatola andiamo a spostare il tutto e abbiamo il supporto del banco sega vuoto però io credo che porca di quella porca di quella porca come ripeto per fortuna che ho fatto il grande banco che si chiama grande banco in un laboratorio piccolo il grande banco quindi torniamo un attimo allo schienale il basamento la struttura superiore il piatto riscaldante i due fianchi che vanno dal basamento alla struttura superiore e i due motori quindi i due dell'asse Z che andranno a movimentare il piatto ragazzi io credo che aspettate che metto giù l'armamentario io credo che tutto sto ambaradan qua adesso tutto sto ambaradan qua deve essere messo assieme dobbiamo trovare il sistema per farlo funzionare e deve entrare qui dentro e le misure non in larghezza in profondità siamo siamo ecco una cosa che mi stavo dimenticando di dirvi attenzione perché più di qualcuno magari adesso starà guardando e dice caspita io vado a prendere un altro tipo di macchina me la mandano intera anche questa arriva intera ragazzi questa si può scegliere preassemblata o assemblata per lo stesso motivo la marca 4 per lo stesso motivo la mini cioè si può scegliere assemblata si apre la scatola si fa due tre controlli cinghie tensionamenti e quant'altro si lancia il file di partenza lei fa tutti i test ed è pronta quindi nessuno ci obbliga a far questo io l'ho fatto per due motivi il primo motivo è perché io amo anzi per tre motivi il primo motivo è perché io amo assemblare mi è sempre piaciuto sin da quando ero grande così il secondo motivo è perché se alla macchina succede qualcosa io la macchina la imparo assemblandola da me io la macchina la imparo e posso avere una percentuale di successo nel capire dov'è il problema prima di chiamare l'assistenza se mi arriva già bella e che fatta lì magari è un po' più complesso però già una volta mi è successo che mi si è incastrato il filamento perché tra l'MMU e altro accessorio che è stato montato sulla marca 4 mi si è inceppato il filamento sempre per un errore mio di movimentazione quando a volte si viene presi dalla foga il discorso che facevo prima tu pensi di aver capito una cosa ne sei convinto e parti è lì dove ci si deve fermare e ragionare un attimo ho incastrato il filamento ho smontato tutto il gruppo estruder davanti e mi sono arrangiato senza tanto chiamare assistenza o scervellarmi o cominciare a smadonnare perché vuoi che la macchina funziona ti dici a te stesso ho speso soldi e adesso voglio che funziona voglio imparare deve andare tutto bene quel monte mezzo che fa il video dice strucca il bottone e vai e qui non è così ragazzi come ho già detto anche nel video insieme ad Andrea Galeazzi nessuna stampante al mondo è esente da problemi non mi venite a dire se prendevi quella se prendevi l'altra non ti smaronavi non bestemmiavi partivi subito c'è stato uno persino che mi ha scritto se tu prendi un altro brand queste macchine qua le puoi portare in discarica ho risposto con gentilezza perché è giusto fare così però ragazzi prima di sputarne il piatto dove si mangia io ci starei un attimo attento e se per caso il brand che quel signore lì mi ha citato fosse un fuoco di paglia e domani succede qualcosa anche a lui io non di certo sarò quello che va a dirgli hai visto te l'avevo detto non sono fatto così per carità però anche voi che mi scrivete state attenti cioè voglio dire un po' di creanza un po' di umiltà e un po' di eleganza perché adesso io cosa penso di te cosa penso è una brutta cosa no? la situazione capisci? quindi ripeto si può averla assemblata quindi il primo motivo mi piace assemblarla secondo motivo la conosco la imparo pezzo per pezzo il terzo motivo in tasca o 500 euro non 50 o 5 500 euro quindi dal momento in cui uno valutiamo un attimo i consigli che vi ho dato il manuale a prova di idiota avere uno spazio avere la tranquillità il sangue freddo per cominciare passo passo la prima macchina e io ero terrorizzato a ordinarla e il Giannuzzi un mio caro amico mi ha detto Luca vai vai non succede nulla è difficile sbagliare perché se segui come spiegato è difficile sbagliare è stata la mia più grande soddisfazione prendere in kit non questa ma la MK3 il mio primo kit ok? quindi sappiate che questo smaronamento si può evitare con 500 euro in più senza conoscere magari tutti quanti i particolari poi magari siete dei cervelloni mecatronici e quant'altro non vi serve montarla perché la conoscete già perché è stato il vostro studio della vostra vita è ok per carità adesso io non voglio dilungarvi però vi ho portato l'esempio di varie possibilità bene io credo mi auguro che questo unboxing ne sia valsa la pena mi auguro di avere scusate se nei video precedenti vi ho tenuto un po' appunto ricordatevi che ci sono altre due parti da vedere se vi ho tenuto un po' non all'oscuro ma un po' tirati un po' in sorpresa perché come dico sempre è anche bello un po' giocare così quindi vi ringrazio per la vostra pazienza per la vostra fiducia sappiate che non girerò né timelapse e neanche video di montaggio perché ragazzi c'è un manuale se volete vedere un assemblaggio andate online a parte che online non si vedrà mai uno che assembla pezzo per pezzo perché io credo che qui meno di una 10 8 10 12 ore non me la cavo e cosa mi metto a fare 12 ore di video a puntate ma diventa peggio di beautiful qui dentro e allora io adesso partirò assemblo tutto la inserisco all'interno e poi quando sarà il momento di fare i test di stampa allora la vedremo lavorare vedremo cominciare a muoversi tutto una cosa che non ho ancora fatto all'interno dell'opera questa ve la do nonostante non abbiate ancora visto le altre due parti se osservate nel fondo dove va appoggiata la macchina non c'è nessun passacavo perché la macchina vi ricordate che ho sempre detto che vedete la sporgenza qui è tutto pregno è tutto piccolo quindi questa profondità quindi da vetro dietro alla porta chiusa davanti ho dovuto misurare perché ho avuto l'occasione di vedere la stampante la XL di Andrea Galeazzi già montata mi sono preso quattro misure per partire con questa opera e mi viene da piangere perché subito pensavo ho detto non posso permettermi non posso permettermi di metterla all'interno del laboratorio perché in casa non ci può stare non ho altre alternative e le stampanti le voglio qui quando lavoro cioè questa è la mia base operativa mi dispiaceva non poter inserirla in questo contesto allora se io non facessi anche lavori in legno se io non avessi il banco sega e lavora il medio density e lavora il multistrato e lavora tante altre cose non ci sarebbe mai polvere qui dentro anche se tutti lo pensate che qui non ci sia polvere venite a trovarmi e se so che il giorno in cui è l'ora esatta in cui venite a trovarmi io vi faccio trovare il laboratorio non come quando lo fotografo o faccio un video ma quando è veramente tosto cioè quando è veramente sporco non potevo facendo un lavoro ibrido quindi sia il legno che la stampa 3D avere un qualcosa di per lasciare la macchina libera allora il passacavo non è montato perché ho dovuto oltretutto e questa è una dritta che vi do per chi magari si accingesse a creare un enclosure tipo questo o una situazione dove la macchina va posta in un determinato posto e magari anche qualcuno di voi ha problemi di contenimento o di misure ho preso questo accessorio e qui posso nominare tranquillamente a un evento che ci siamo trovati con Andrea Galeazzi e con Andrea Persola che è un è un eroe di queste cose lui è veramente un eroe della stampa 3D ne abbiamo parlato e ho trovato questo accessorio vedete è una pipa è un adattatore a pipa per gli attacchi classici C13 C14 o forse il contrario c'è maschio femmina gli attacchi classici da computer perché questo perché sulla profondità io devo considerare la macchina devo considerare il monitor davanti che speriamo ci stia e devo considerare lo spazio posteriore perché lo spinotto di questa macchina va fuori dritto va fuori dritto siamo poi la griglia sporge leggermente dove ci sono gli estrusori e lo spinotto è questo qui e se lo spinotto mi va fuori dritto dietro ho un vetro cosa faccio faccio fare il buco al vetraio sul vetro no non si può allora per far sì che la cosa sia contenuta prima di installare il cavo macchina originale andremo ad installare questa pipa quindi il cavo macchina io non lo attaccherò più dritto che mi va ad incombere sulla profondità di misura ma sarà laterale quindi sul fondo non è stato creato il passacavo che dovrò stampare intanto con la marca 4 per lei perché prima mettiamo dentro la macchina vediamo lo spostamento per avere il cavo che va giù morbido che poi andrà a collegarsi all'impianto elettrico sottostante e lo vedrete nei due video che vi mancano e così ho risolto la cosa quindi cerchiamo di in larghezza non c'è problema ma in profondità siamo tirati rinnovo la vostra pazienza grazie ragazzi la vostra fiducia nel seguirmi se avete domande ma più che domande quello che vi voglio dire ora è questo soprattutto per i possessori già della Prusa XL se avete consigli perché io qui è già è già diciamo chi se ne è accorto che è arrivata nel laboratorio ha già cominciato a a a a a a consigli e questo è anche vero che quando si impara ad andare in bicicletta non non si dispara più si può usare questo verbo non cioè non ci si dimentica più di come si fa ad andare quindi una volta passate quelle non è che ci sia però la meccanica qui è completamente diversa quindi ok io vi ho messo al corrente della cosa ora mi cimento nel montaggio ma sappiate che qualsiasi cosa volete chiedermi o qualsiasi cosa volete consigliarmi io sono qui sono qui per me e sono qui per voi e noi ci vediamo all'assemblaggio completato ricordatevi i due video ciao amici ps post scriptum allora non vorrei aver detto qualcosa di sbagliato di sicuro qualcosa di sbagliato l'ho detto probabilmente perché tutta questa operazione io l'ho studiata ma toccare con mano e studiare a video e nella carta non è la stessa cosa credo di aver fatto un errore nella spiegazione del piatto a 16 piastre questo mi è venuto alla mente nel momento in cui chiudevo il video perché perché proprio andrea galeazzi credo di ricordare un evento che abbiamo trascorso assieme circa una settimana fa mi diceva appunto e stavo visionando la xl che stava funzionando in dimostrazione non si è suddivisa in in 16 parti però credo che non si possa riscaldare solo una parte ma che vada a quadri di quattro piastre al colpo quindi voglio dire sono quattro i gruppi che credo si riscaldino e questa è una cosa che dovrò comunque approfondire però ci tenevo a a farlo notare perché poi non vorrei mai che dall'altra parte del video che sto facendo mi piovono hai sbagliato non capisci niente e c'è la chiarezza è la prima cosa rammento il fatto cioè vi ricordo il fatto che oltre ad averla aperta e avervi spiegato quello che io nel mio piccolo conosco ammetto che qualcosa magari di sicuro l'ho travisato o questa cosa mi è venuta in mente e ho voluto a ribadirla di spiegarla insomma ecco grazie ancora ragazzi grazie 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 grazie